Dal 4 al 25 gennaio sono aperte le iscrizioni online per tutte le classi prime della scuola primaria e secondaria e per i corsi dei centri di formazione professionale e regionali. Basta andare qui. La registrazione è facile e con lo speed il sistema pubblico di identità digitale è ancora più veloce. Per scegliere la tua scuola vai su Scuola in Chiaro. È davvero semplice. Si fa tutto online. Grazie per la visione.